Musica Eccoci dopo un'importantissima vittoria contro l'Agaris Giorgio, tolto l'infortunio di Susio Quali sono stati secondo te le cose che sono andate bene e quelle cose che sono andate male? E specialmente qual è stato il fondamentale che ci ha permesso di portare a casa questi tre punti? Prima cosa, dispiace per l'infortunio di Susio perché ogni partita ce n'è una e speriamo che non sia una cosa grave Ma prima faccio i complimenti alle ragazze perché hanno giocato una gara veramente eccezionale e secondo me il fondamentale che ha fatto la differenza è stato Moore difesa Abbiamo difeso veramente tanto e siamo stati molto bravi sulla palla di contrattacco a fare veramente pochissimi errori perché finito il secondo set avevamo solo un errore in attacco, una percentuale altissima sulla fase di contrattacco quindi sono state molto brave su questo fondamentale è il fondamentale che gli ha creato più casino, che l'abbiamo preparato bene e ci sono messi loro la battuta la battuta veramente ci ha dato tanto Ok, ti ringrazio Giorgio Grazie In bocca al lupo per il proseguo Ci vediamo alla prossima, ciao!